Ma innanzitutto precisiamo una cosa che la sezione di raccordo di Gimarra è assolutamente aperta in questo momento e proseguirà la sua attività per tutto l'anno scolastico. L'unica differenza è che per l'anno 2016-2017 in questi giorni non si stanno proponendo dei servizi educativi le iscrizioni a quella sezione di raccordo perché in un piano di razionalizzazione generale dei nostri servizi abbiamo fatto la scelta di ridurre da 5 a 4 le sezioni di raccordo presenti nel nostro territorio. È una scelta però fatta con senso perché negli ultimi 5-6 anni abbiamo registrato una diminuzione costante, progressiva e importante delle iscrizioni a questo servizio che si colloca a metà strada tra il nido tradizionale e la scuola dell'infanzia, quindi destinato ai bambini della fascia 2-3 anni e visto che le richieste da parte del territorio stanno diminuendo, chiaramente siamo stati portati a fare una razionalizzazione anche per poter poi potenziare le altre realtà con le figure professionali che si libereranno a partire dall'anno prossimo grazie a questa scelta. Quindi lo preciso, nessun disagio per le bambine e i bambini che oggi stanno frequentando la sezione di raccordo di Gimara né per loro né per le loro famiglie né soprattutto per la città.